Buonasera a tutti. Io penso che possiamo iniziare, vero? Iniziando vi presento subito i nostri ospiti, cui sono davvero grato per aver aderito al nostro invito. Anzitutto Maria Pia Garavaglia, che credo non abbia bisogno di presentazioni anche per la sua lunga militanza politica, che credo non sia ancora finita, per l'impegno che ha dedicato e sta dedicando ai temi sociali e sanitari. Adesso lei è vicepresidente del Comitato Nazionale di Bioetica e, come ben sapete, fu anche ministro della Sanità, tra l'altro. Poi abbiamo con noi Fabrizio Asioli, che è collega, testimone anche di un grande impegno professionale, che è stato direttore della psichiatria di comunità, una rivista molto diffusa e soprattutto autorevole tra i colleghi e che già dal titolo dice l'impegno, la psichiatria fatta nella comunità, nel territorio, oltre che essere stato il direttore del Dipartimento di Salute Mentale a Bologna. Alla mia destra, invece, Bernardo Carpiniello, che è ordinario di clinica psichiatrica a Cagliari ed è attualmente il presidente della Società Italiana di Psichiatria, che è appunto la società scientifica che riunisce gli psichiatri del nostro paese. Bene, io mi avvio a collocare un po' questo incontro all'interno del meeting. La citazione è, in questo caso, del presidente Mattarella, che qualche mese fa siamo in tema di anniversari, c'è l'anniversario, come avete visto, della Costituzione, c'è l'anniversario del 68, ma c'è anche un anniversario che riguarda la legge 180, di cui lui ha detto «Questa legge sfida la società a diventare un contesto appropriato per tutti, imponendo nelle politiche pubbliche una riflessione costante sull'identità inviolabile di ogni singola persona e al tempo stesso sulle sue fragilità». Ho trovato profonda e per niente scontata questa affermazione e la voglio legare proprio al fatto che probabilmente la storia che ha caratterizzato l'epoca precedente alla legge 180, prima ancora che una storia di prepotenza è stata probabilmente una storia di paura nei confronti dell'altro, nei confronti del diverso da te. Una storia che di epoca in epoca ha creato i manicomi che poi sono stati attraverso delle leggi a cavallo tra il 1800 e il 1900 regolamentati e istituiti, negando quindi di fatto dignità e libertà a moltitudini di uomini e di donne. Parafrasando adesso il titolo del meeting, che sapete bene le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l'uomo felice, ecco, parafrasando il titolo del meeting ci fu un altro movimento. Nella storia un movimento che invece, al contrario del precedente, ha posto la speranza sulla forza dell'insopprimibile desiderio di felicità e di realizzazione di sé che ogni persona, anche se bizzarra, anche se malata, anche se disabile, porta. Oltre che sull'attivazione di cure esperte, di reti solidali, ha posto la speranza su questi valori e in questo modo ha rotto le catene e coraggiosamente ha voluto chiudere i manicomi e la loro, diciamo, ineluttabilità. Era il 1978, appunto, 40 anni fa in Italia e si percepiva già da allora tutto il valore e il rischio della sfida. Credo che ne sia nato realmente un cambiamento epocale. A questo, appunto, è dedicato il nostro incontro la legge 180 e i suoi primi 40 anni. Già questo titolo è un augurio, come capite. Una rivoluzione del passato o una speranza presente per il futuro? La legge, come forse qualcuno sa, aveva alle spalle un lungo dibattito preparatorio, però fu elaborata in brevissimo tempo, no? Vi ricordate, in base a una proposta di referendum abrogativo proposta appunto dai radicali. È stata una legge che, oltre ad abolire i manicomi, ha istituito il territorio, non solo i servizi del territorio, il territorio come un luogo normale possibile per la cura dei malati psichici. Quindi ha esaltato la dimensione del soggetto, della persona, e anche del contesto sociale in cui vive. La sua famiglia, i vicini, gli amici, i colleghi e persino gli operatori psichiatrici, no? Chiamati a diventare alleati della persona del territorio. Quindi una scelta indubbiamente coraggiosa che fu accompagnata da polemiche, da scetticismo di fronte a una scelta ritenuta o sentita come impossibile. Molti però già da allora ne percepirono tutta la positività. Perché sentivano che la questione era centrata sulla persona e sul suo bisogno e che, direi, la società stessa era chiamata un movimento di identificazione con l'altro, con l'altro soggetto, con le sue ansie, con le sue paure, con le domande e con i desideri di cui ciascuno è fatto. Con le ferite che uno riconosce in se stesso e per questo è anche chiamato a verificarle, a verificarlo nel rapporto con l'altro. Molti operatori e molti familiari si sentirono da questo chiamati a una nuova, positiva responsabilità e impegno. E tanti esempi, vedo anche dei colleghi pratici sul campo ne sono nati. Molte persone hanno sentito una profonda motivazione a muoversi sul territorio e hanno di fatto incarnato la legge con il loro impegno. Perché problemi non ne sono mancati, come ben capite, nell'attuazione della norma. E sono problemi legati alle diverse organizzazioni di servizi regionali che, come dico, non sono mancati. Tuttavia vorrei affermare che il cambiamento è stato reale ed è stato proprio applicato nel modo con cui ci si è presi cura delle persone con disturbi mentali. La prima modalità è proprio la centralità della relazione personale di cura come fondamento dell'agire clinico. E poi, naturalmente, il lavoro in echipe per la presa in carico, la continuità ospedale-territorio, l'articolazione dei servizi integrati, eccetera. Questo sul versante dei servizi. Una parola, però, anche sulla visione culturale. Dalla 180 in avanti non parliamo più di matti da legare, ma di persone da capire e da curare. Ecco, il cambiamento, però, non è scontato e non è automaticamente riproducibile. Ce lo dicevamo poco fa. È qualcosa che è da ricreare e da rivitalizzare continuamente dentro le relazioni di cura, dentro le organizzazioni dei servizi, ma anche nella cultura della società e nella cultura dei professionisti. Direi, come è stato già detto in altre occasioni in questo meeting, nell'interesse genuino nostro nei confronti dell'altro, nell'interesse profondo nei confronti dell'altro, nella possibilità di uno sguardo all'altro tutto intero. Altro che può vivere un disturbo, una malattia, anche a livello fisico, e che richiede, anzitutto, di essere accolto, capito, aiutato dentro l'incontro e il rapporto con noi. Quindi noi intendiamo concentrare l'attenzione non solo sulla rievocazione, ma anche sulla verifica degli elementi di valore della legge rispetto alla persona e alla società, oggi, quindi i passaggi storici, ma anche i riverbili sull'attualità. Ci piacerebbe, insomma, fare il check-up, misurare il polso della vitalità di questa legge. Allora, a due livelli. Prima di tutto, l'efficacia della metodologia introdotta, mi pare, contrasti, almeno un po', con le attuali difficoltà che sperimentiamo nel fornire dei servizi in misura adeguata, ai maggiori bisogni della popolazione, no? Vecchi bisogni, nuovi bisogni, a far fronte alle domande crescenti. C'è una vera e propria emergenza nel bisogno adolescenziale giovanile, fino dai giovani fino, appunto, agli autori di reato, come ci dicevamo poco fa. Il secondo aspetto, il secondo livello, è che il paziente oggi, sempre meno, è un oggetto passivo di servizi anonimi, no? Ma è un soggetto che collabora alla cura. E questo è divenuto un tema cruciale anche in medicina e in tutto l'ambito sanitario. Perché, appunto, occorre dare un peso anche ai fattori umani nel lavoro medico, la fiducia, la speranza, dentro le relazioni di cura. Pensate anche al fatto che l'evoluzione dei modelli operativi in sanità propone la presa in carico anche per tutti quei pazienti che hanno delle malattie croniche, che sono anziani, che sono multipatologici, nel loro contesto di vita familiare e sociale. Come dire, il modello della 180 è stato preso a prestito abbondantemente anche dal resto della medicina. Io credo che di materiale ce ne sia in abbondanza e che possiamo partire. Giusto per avviarci, io ti proporrei un paio di questioni che mi sono notato. Ora partiamo con Maria Pia Garavaglia che, appunto, ha avuto anche un ruolo di protagonista nel momento in cui la legge ha fatto i suoi passi. Ti chiederei di provare a dire a tutti qual è, in sintesi, il contenuto nuovo e rivoluzionario di questa legge e quale storia ha avuto la sua applicazione che, appunto, è sfociata col primo progetto obiettivo nazionale nel 1994. E poi, anche, se puoi, di dirci quali altri provvedimenti significativi completano quel lungo cantiere, avviato con la 180, della costruzione di programmi rivolti alla cura delle persone. Quindi, è fondata una speranza di continuità? Si sente bene? Grazie. Voi non potete immaginare come sono contenta di vedervi perché è un'occasione unica questa della celebrazione dei 40 anni perché altrimenti non ne parla proprio nessuno e quindi conto su di voi. Sono i 40 anni della 180 perché sono anche i 40 anni della 833. La legge votata il 23 dicembre del 1978 che ha rivoluzionato il modo di concepire il diritto alla tutela della salute. La riforma sanitaria ha detto che il diritto, che è l'articolo 32 della Costituzione, alla tutela della salute deve essere universale. Tutti i cittadini, prima solo le mutue, e quindi c'erano 27 milioni di italiani che non avevano ciò che abbiamo noi oggi. La 180 era un pochettino più vecchia perché era stata votata il 13 maggio del 78 ma i nostri colleghi che hanno scritto la 833 l'hanno presa intera e l'hanno messa nell'833. Perché? Perché Basaglia non aveva eliminato la malattia mentale, l'aveva considerata una malattia e quindi da curare con gli operatori medici, gli operatori sanitari non medici e luoghi di cura e assistenza. Per cui gli ospedali avrebbero dovuto ospitare i dipartimenti di salute mentale e abbiamo una persona che è stata dirigente di questi dipartimenti. Allora, poco fa Giorgio ha detto che il primo progetto obiettivo salute mentale ho avuto l'onore di firmarlo io ma era l'aprile 1994. La legge è del 78. 16 anni. Ma la 833 prevede l'articolo 51 che ci sia un piano sanitario nazionale affinché ogni regione faccia il piano sanitario regionale e le USL prima e le aziende sanitarie oggi abbiano anche un loro piano attuativo. Non solo dei principi, proprio dell'organizzazione delle strutture e dell'organizzazione del personale. perciò la 180 interamente assorbita nella 833 avrebbe dovuto essere interpretata secondo il piano sanitario nazionale. Il primo piano sanitario nazionale il 94-96 l'ho firmato ancora io 16 anni dopo. Allora perché sono qui a dirvi che vi vedo volentieri vi voglio bene anche perché si interessa di sanità si interessa della persona tutta intera perché occorre fare ancora battaglie se ogni volta che c'è una legge l'attuazione attraverso i decreti attuativi esigono ancora oggi così tanto lungo tempo per cui quando è approvato siamo oltre i bisogni della popolazione non ha senso dire che abbiamo eliminato i manicomi che abbiamo dato un servizio universalistico e che l'altro principio è l'equità di accesso. Allora la 180 è stata una rivoluzione perché era una legge fatta per contenere i malati di mente e togliere le paure agli altri era come fosse una legge da ministero dell'interno erano chiamati internati perché quest'anno è un altro anniversario 60 anni della fondazione del ministero della sanità perché prima era il commissario alla salute pubblica ed era ministero dell'interno vedete che si tiene tutto quando finalmente la salute è stata riconosciuta prima dei nostri costituenti all'articolo 32 come un diritto individuale e interesse generale abbiamo incominciato a fare passi che ci hanno condotto fin qui ma non è tutto chiaro cari amiche e cari amici prima una dottoressa del sesto anno ho chiesto ma lei sa cos'è la 833 e ha detto no ma sono sicura che è così perché alla facoltà di medicina non si racconta nulla almeno un seminario nei sei anni sul sistema sanitario nazionale nel quale vanno a lavorare perché ci vuole perché bisogna appassionarsi a un mestiere che è il mestiere più delicato prezioso e complesso al mondo farsi carico dei bisogni delle persone bisogni qualche volta leggeri ma per chi ha paura è pesante ho bisogni pesanti la malattia mentale cari amici e amiche ho tre psichiatri importanti vicino a me non voglio fare un mestiere che non è il mio toccherà loro entrare nel dettaglio dei servizi a me interessa però non smettere di valorizzare il rapporto medicina comunità medico singola persona perché è un problema culturale se non diventa una relazione quella fra il medico e il malato è inutile la 180 c'è bisogno di sedare i pazienti scusate per 30 secondi mi rubo il mestiere non si usano solo pastiglie il progetto obiettivo purtroppo del 94 è precedente al 2001 cioè alla legge 3 che ha fatto la riforma dell'articolo 117 della costituzione perciò il progetto obiettivo chiedeva servizi uguali in tutta Italia adesso abbiamo 20 servizi diversi anche per i malati di mente il criterio però è che non si può più ricostruire nemmeno mini manicomi perché il livello minimo è il livello delle comunità familiari con 20 persone circa si prevede anche che ci siano casi importanti che prevedono ancora il ricovero e ci sono i dipartimenti di salute mentale ci sono sul territorio servizi che ogni regione ha declinato come ha voluto però dobbiamo pretenderli se qui tra di noi non c'è nessuno che ha fatto esperienza di avere un paziente in famiglia che ha bisogno di questi servizi si faccia carico lo stesso di pensare al dolore e alla solitudine dei parenti che hanno in casa queste persone il giorno in cui sono stata nominata ministro da Ciampi sono andata a Santa Maria della Pietà l'ospedale psichiatrico era il manicomio più grande al mondo a Roma non avevamo l'abitudine di fare il selfie con i malati e ancora meno di aver avvisato i giornalisti che andavo a Santa Maria della Pietà ho incontrato i malati gli operatori che erano amareggiati per l'abbandono perché come sono abbandonati i malati sono abbandonati ce lo dirà il presidente gli operatori e sono pochi perché occorre avere le specializzazioni in psichiatria occorre avere gli infermieri ho firmato anche quel profilo professionale e sono orgogliosa gli infermieri psichiatrici occorre personale che è adatto alle persone se ho bisogno dell'infermiere ferrista in sala operatoria per un malato di mente avrò bisogno di un operatore che conosce i problemi e anche gli atti di cura dei medici quindi quello che voglio trasmettervi è questo è un tale dolore sempre una malattia soprattutto se è gravissima oramai è un dolore la cronicità perché vedete davanti agli occhi tutti i giorni le persone che soffrono ma la malattia mentale è rimasta uso un'espressione che di solito usiamo per i farmaci ancora una malattia orfana io sono riuscita ad andare a Santa Meda la pietà quel giorno perché ho avuto per anni una signora non dico il cognome che si chiama Maria Rosa la quale era sorella non mamma di un malato di mente che mi ha inseguito fino a quando non mi sono messa a scrivere la proposta di legge e poi me lo sono ricordata quando ho fatto il progetto obiettivo occorre ascoltare la nostra comunità e i medici occorre che ascoltino i malati abbiamo inventato noi politici l'alleanza terapeutica l'alleanza terapeutica è una cosa molto seria non è solo la relazione fra medico paziente l'alleanza terapeutica è una comunità che condivide i dolori e allora vuole condividere anche le soluzioni grazie allora facciamo che la seconda domanda te la faccio dopo eh già va bene allora procediamo così una domanda alla volta d'accordo Fabrizio e la tua quello che ti vorremmo chiedere è se ci puoi aiutare ad approfondire un po' no il valore e la portata in senso clinico in senso socio-culturale di questa rivoluzione che la legge 180 ha introdotto specialmente riguardo alla persona e alla relazione di cura sì lo faccio volentieri eh io sono convinto che è stata una rivoluzione e per cercare di convincere chi di voi magari non fosse convinto soprattutto i più giovani che non sanno che cos'era la psichiatria prima del 1978 vorrei dirvi in poche parole come era organizzata la psichiatria non oso usare la parola assistenza psichiatrica come era organizzata la psichiatria era un'organizzazione molto semplice sia dal punto di vista della filosofia la metto fra molte virgolette questa parola sia dal punto di vista della pratica esisteva in Italia e in tutto il mondo era la stessa cosa esistevano in Italia poco meno di cento ospedali psichiatrici nei quali venivano ricoverati pazienti internati diceva giustamente e vi spiegherò meglio che perché anch'io uso questa parola pazienti sempre in una fase molto avanzata della loro malattia cioè quando la malattia si era cronicizzata vale anche per i disturbi mentali quello che vale per ogni malattia più si interviene tardi e meno si riesce a ottenere dei risultati soddisfacenti quindi pazienti sempre in fase avanzata della malattia sempre contro la loro volontà per periodi di tempo molto prolungati e in alcuni casi per tutta la loro vita tuttavia non tutti gli internati avevano problemi psichiatrici perché fra le persone che erano ricoverati in ospedale psichiatrico trovavamo anche pazienti con handicap anziani prostitute persone sole e devianti ma perché voi vi chiederete succedeva tutto questo ma perché la le normative psichiatriche prima della 180 erano incentrate non sul disturbo psichiatrico e sulla necessità di una sua cura ma erano incentrate sul comportamento la legge precedente del 1904 recitava che poteva doveva essere ricoverato le persone che avessero dati segnali di pericolosità per sé per gli altri o di pubblico scandalo questo era il testo della legge le conseguenze è che il ricovero era sempre disposto dall'autorità di pubblica sicurezza con o senza certificato medico a riprova che era un dettaglio il punto di vista del medico questo bisogna dire a onor del vero che il ricovero coatto è stato in parte addolcito da un ministro illuminato secondo me il ministro Mariotti che qualche anno prima della legge 180 introdusse la possibilità del ricovero volontario però c'è da dire che le persone non si ricoveravano con molto piacere in ospedale psichiatrico per le ragioni che vi dirò fra poco quindi il ricovero si configurava come una misura di pubblica sicurezza e non come una misura di natura sanitaria lo psichiatra rispondeva unicamente del ruolo di custode per il quale in assenza dell'esercizio del dovere di custodia rispondeva penalmente all'autorità giudiziaria e nella legge 1904 non c'erano indicazioni particolari su che cosa dovesse fare per la cura dei pazienti la psichiatria era fuori dai circuiti sanitari fuori dalle regole e dai finanziamenti sanitari era affidata alle amministrazioni provinciali che erano un ente senza alcuna competenza sanitaria gli internati vivevano completamente isolati dal mondo completamente isolati dal mondo rinchiusi in reparti sovraffollati con grande promiscuità di bisogno assistenziali quindi c'era come posso dire un coacervo di necessità per cui anche se il personale di assistenza più disponibile faceva fatica in qualche modo a organizzare qualche risposta a favore di queste persone all'insegna la vita degli internati all'insegna della restrizione della libertà personale dei diritti civili chi veniva ricoverato in ospedale psichiatrico perdeva il diritto di votare e spesso all'insegna di esplicite violenze nel 1978 anno in cui venne approvata la legge 180 un paziente dell'ospedale di Colorno di Parma dove io lavoravo era contenuto nel proprio letto da 25 anni senza alcuna interruzione allora voi capite che la legge 180 è davvero una rivoluzione perché rovescia il paradigma incentrato sulla pericolosità significa precedentemente avere un disturbo mentale significava automaticamente essere pericoloso quindi viene rovesciato i criteri di ricovero sono determinati non da ragioni di pubblica sicurezza ma da ragioni sanitarie cioè il bisogno di essere curati e il diritto di avere una cura i disturbi psichiatrici vengono inseriti nell'ambito dei disturbi pur essendo un disturbo diverso ma anche avere una grave epatopatia è diverso che avere una malattia immunitaria il fatto è che la malattia mentale acquista gli altri gli stessi diritti degli altri disturbi la creazione di servizi che non fossero accentrati come era l'ospedale psichiatrico ma che fossero decentrati e all'interno delle sedi della medicina questa è l'enfasi sul trattamento obbligatorio mi avvio a concludere questa rivoluzione ha comportato enormi vantaggi per i pazienti vi faccio un esempio negli ospedali psichiatrici italiani attorno al 1978 quando la legge è stata approvata erano internati circa 100.000 persone nell'arco di 10 anni i pazienti che si sono rivolti ai nuovi servizi psichiatrici sono stati circa un milione vuol dire che i nuovi servizi psichiatrici nonostante fossero sottodotati e in sviluppo erano più graditi dai pazienti e il fatto che fossero più graditi dai pazienti voleva dire che dava a noi operatori della psichiatria maggiori possibilità di cura a un numero maggiore di pazienti la cosa che sul piano professionale ha certamente costituito un aspetto clamoroso è che intervenendo prima perché i servizi erano più accessibili e più graditi dei pazienti si è potuto mettere in atto delle strategie per interventi precoci e oggi una malattia che si chiama schizofrenia che per definizione era la malattia inguaribile in psichiatria è una malattia della quale in molti casi si può guarire ultima cosa che voglio dirvi è che c'è stata a seguito della legge una progressiva trasformazione degli atteggiamenti sociali verso la malattia mentale e verso i pazienti che avevano disturbi mentali con una riduzione dello stigma si dice tecnicamente cioè della vergogna che si accompagnava all'avere un disturbo mentale oggi ad esempio chi soffre di depressione di ansia e di altri disturbi ne parla liberamente con gli altri e questo è un segno importante della rivoluzione compiuta dalla legge 180 ma è anche un segno della possibilità di chi ha un disturbo mentale di poter parlarne con gli altri come si parla con gli altri quando si ha un dispiacere mi fermerei qua grazie grazie Fabrizio Bernardo come dire come possiamo portare avanti questo discorso cioè dal tuo punto di vista dal tuo osservatorio ci sono delle conquiste che oggi sono state consolidate in questi 40 anni che questa legge la 180 unica al mondo ha permesso e che non possiamo perdere bene anche io ho accettato molto volentieri questo di incontrarvi in questa sede perché noi psichiatri abbiamo capito che c'è ancora necessità di far conoscere la realtà della malattia mentale e dell'organizzazione che c'è attorno al tema della salute mentale prima è stato detto che persino nei corsi di medicina io sono professore universitario lo so bene si parla poco dell'organizzazione sanitaria e tanto meno dell'organizzazione della psichiatria persino i medici di famiglia dopo 40 anni stentano a conoscere la realtà della salute mentale quindi più se ne parla meglio è per tutta la popolazione per tutti noi in questi 40 anni è stato l'Italia ha avuto un grande merito merito riconosciuto a livello internazionale guardate nel 1978 quando fu varata la legge e l'Italia decise di chiudere i manicomeri all'estero venimmo giudicati matti nel senso letterale del termine ci deridevano dicevano che sarebbe stato una cosa impossibile soprattutto i colleghi inglesi i colleghi tedeschi gli stessi statunitensi ancorché guardate il processo di progressivo diciamo così svuotamento degli ospedali psichiatrici fosse una realtà internazionale cioè il cosiddetto processo di destituzionalizzazione stava avvenendo dagli anni 60 in tutto il mondo ma l'Italia è stata l'unica l'unica e ancora oggi è l'unico paese al mondo che ha chiuso i manicomi non solo ci sono voluti 40 anni abbiamo chiuso anche gli ospedali psichiatrici giudiziari che altrove sopravvivono in quell'epoca dopo qualche anno uscì un famosissimo articolo scritto da autori americani dove si chiedevano se l'Italia sarebbe sopravvissuta senza gli asili perché un altro termine equivalente di manicomia era gli asili le istituzioni cosiddette totali noi possiamo dire oggi con vanto che siamo sopravvissuti ovviamente accanto alle luci che vi stiamo declamando ci sono tante ombre che nessuno di noi nasconde però questo vanto è veramente tutto italiano e noi l'Italia col suo sistema creato faticosamente in 40 anni perché ci abbiamo messo 40 anni per creare questo sistema complesso che brevemente vi spiegherò in questi 40 anni questo sistema è diventato il modello di riferimento internazionale l'Organizzazione Mondiale della Sanità che voi sapete è il massimo organismo internazionale che governa un po' o comunque detta delle linee guida a livello internazionale sulle problematiche della salute dice a tutti guardate seguite il modello italiano perché è il modello migliore per una corretta assistenza alla persona affetta da malattia mentale una corretta assistenza che sia non solo basata sulle evidenze scientifiche ma anche su principi inderogabili di rispetto della persona umana e rispetto della libertà perché vorrei sottolineare che la legge 180 ha sancito che il principio fondamentale della tutela della salute mentale è innanzitutto fondato sulla libertà di cura è vero esiste ancora il trattamento sanitario obbligatorio ma come eccezione non come regola ciascuno di noi se ha un problema di salute mentale sceglie liberamente dove andare da chi andare se curarsi o persino se non curarsi il trattamento sanitario obbligatorio che è stato diciamo una norma introdotta necessariamente come in tutto il mondo della legge volevo far notare è strettamente regolamentato non è come si dice in giro ci sono totali complete garanzie per la persona di rispetto della sua libertà e dei suoi diritti perché ad essere ricoverati ci vogliono due certificati medici ci vuole un'ordinanza del sindaco ci vuole il nulla osta del giudice tutelare chiunque senza ricorrere a un avvocato anche il passante che veda per strada una persona portata in un servizio psichiatrico di diagnosi escuda può fare un ricorso anche se non ha legami di parentela e non ha bisogno caso più unico che è raro nella legislazione italiana non ha bisogno di tutela legale non c'è bisogno di un avvocato per fare questo ricorso l'italia anche da questo punto di vista è vista a livello mondiale come un esempio di democraticità e di rispetto dei diritti umani certo ci sono state violazioni ma sono molto rare in italia sono molto rare e in genere sono state severamente sanzionate detto questo che cosa dire in questi 40 anni cosa abbiamo fatto abbiamo dato gambe ad un sistema nato nel 1978 che all'inizio stentava a decollare infatti l'onorevole Gravagli ha detto giustamente abbiamo dovuto aspettare il 94 per avere una sorta di legge di norma quadro che stabilisse come dovesse essere questo sistema e questo sistema è basato su un concetto la cura dei disturbi mentali viene fatta laddove la persona vive sul territorio la persona ha il diritto all'assistenza domiciliare la psichiatria è stata la prima ed è un modello per tutta la medicina di assistenza domiciliare su tutto il territorio nazionale c'è ancora il ricovero certo perché ci sono ancora le acuzie per le malattie mentali ci sono i servizi di diagnosi e cura ma non c'è più la centralità del ricovero il ricovero viene visto come un momento del percorso di cura nella fase in cui la persona ha l'acme della sua patologia ma ordinariamente la cura viene fatta fuori dagli ospedali tant'è vero che noi abbiamo una media di ricoveri in ospedale attualmente che è di circa 12 giorni 15 giorni abbiamo un tasso di trattamenti sanitari obbligatori che ormai si è ridotto all'8% e l'obiettivo è portarlo ancora meno al 5% si è creato un sistema basato su una vasta rete di strutture territoriali che ordinariamente prendono il nome di centri di salute mentale che sono il fulcro di un sistema governato da una sorta di contenitore organizzativo che si chiama dipartimento di salute mentale in tutta Italia esistono 163 dipartimenti di salute mentale in ogni regione ce n'è sicuramente più di uno c'è la tendenza a fare grossi accorpamenti che non è una delle criticità dei tempi moderni però c'è una rete capillare diffusa sul territorio abbiamo 1500 circa centri di salute mentale abbiamo 2300 strutture residenziali perché qualche politico recentemente ha detto che c'era stato l'abbandono dei malati noi abbiamo strutture dove le persone possono essere seguite percorsi riabilitativi abbiamo circa 30.000 ospiti delle strutture residenziali abbiamo circa 950 strutture semiresidenziali che sono i dei hospital e sono i centri diurni abbiamo 290 servizi di diagnosi e cure ospedalieri con circa 4800 posti letto l'Italia è un primato mondiale sicuramente europeo probabilmente mondiale è il più basso numero di posti letto ospedalieri cioè l'Italia ha dimostrato che era possibile sopravvivere non solo senza manicomei ma senza troppi reparti ospedalieri probabilmente è sottodimensionato questa è una delle nostre criticità però sicuramente l'Italia è il paese che maggiormente ha seguito i dettami dell'OMS cioè di ridurre al minimo i tempi di ospedalizzazione che cosa facciamo perché si è detto recentemente si è sentito i malati sono abbandonati a se stesso certo probabilmente in alcune regioni in alcune realtà ma spiegherò anche perché questo è possibile perché la verità non la dobbiamo nascondere ma noi abbiamo cercato di fare con le risorse vedremo limitate che abbiamo e vi dirò qualche dato se ci sarà il tempo abbiamo fatto il possibile noi curiamo attualmente circa 900.000 persone all'anno in questo sistema queste 900.000 persone sono circa badate l'1,6% della popolazione adulta chiaramente se tutte le persone che hanno bisogno nell'area della salute mentale dovessero ricorrere al sistema pubblico il sistema che già vacilla purtroppo pesantemente crollerebbe perché perché voi dovete sapere che circa il 25% della popolazione italiana prima o poi avrà un problema di salute mentale che va da un qualche cosa di transitorio diciamo minimale come un episodio d'ansia clinicamente evidente a una patologia grave come potrebbe essere un grave disturbo di personalità un disturbo bipolare una grave forma di depressione oppure la schizofrenia la psichiatria si è dilatata è diventata una materia enorme non perché gli psichiatri come si dice si siano inventati le patologie perché purtroppo le patologie esistono anche le nuove i cosiddetti disturbi di personalità sono un'emergenza in tutto il mondo anche in Italia il gioco d'azzardo patologico non è un'invenzione degli psichiatri le disforie di genere non sono un'invenzione degli psichiatri sono delle realtà e chi le vive in famiglia badate che una famiglia su due in Italia prima o poi avrà al suo interno una persona con problemi di salute mentale noi siamo ben consapevoli di questo e del ruolo delle famiglie devo aprire una parentesi se non ci fosse stata la tenuta della famiglia la legge probabilmente non poteva andare avanti la famiglia è il grande tessuto sociale che ha permesso anche all'Italia di fare questo all'estero tutto questo gli Stati Uniti con una grande mobilità e con una scarsa tenuta della rete familiare non è mai stato possibile fare nulla del genere ora tutto questo è sicuramente stato fatto voi direte quanti siete noi abbiamo circa 30.000 operatori e qui vengono le criticità la psichiatria viene attaccata da tutte le parti dicendo che le famiglie sono abbandonate i malati non sono adeguatamente assistiti in parte è vero ma perché il famoso progetto obiettivo prevedeva che ci fosse un operatore per ogni 1.500 abitanti attualmente la media è intorno a 0.8 su 21 regioni e province autonome italiane i tre quarti sono a livello di circa 0.5 e 0.6 cioè 30-40% in meno degli operatori necessari in sei regioni siamo al 20% 20% il che vuol dire che in un'area mettiamo media di 80.000 abitanti servita da un centro di salute mentale questa è la taratura media un centro di salute mentale è la struttura territoriale che copre i bisogni di 80.000 abitanti ci sono due psichiatri e tre infermieri cosa pensate possa fare un personale così per una utenza fate conto su 80.000 abitanti ci saranno 2.500 3.000 persone che stanno continuamente in cura perché gran parte dei disturbi mentali sono cronici o ricorrenti voi sapete quanto spende l'Italia per la salute mentale qualcuno ha un'idea allora l'Italia spende il 3.4% del fondo sanitario nazionale sapete quanto spende la Spagna la Francia l'Inghilterra la Germania cioè paesi con i quali noi giustamente ci dobbiamo paragonare stanno dal 12 al 17% questa è la realtà allora anni fa anche in Italia abbiamo un grande un grande successo un bellissimo slogan non c'è salute senza salute mentale noi da anni chiediamo ai politici di dare contenuto a questa bella cosa io l'ho sentita tante volte da molti politici che se ne sono impossessati di questo bellissimo slogan che è nato nella psichiatria ovviamente esportato è diventato un bellissimo slogan di tipo socio politico però signori alle parole bisogna far succedere i fatti e sono anni che noi fatti non ne vediamo il sistema progressivamente sta andando verso il tracollo non ce la si fa perché poi l'utenza sta aumentando sempre di più ultimamente c'è tutto il problema dei migranti c'è stato dato in carico la cura del gioco d'azzardo patologico la cura dei pazienti nelle carceri sono stati chiusi di ospedali psichiatrici giudiziali ma sono state create delle strutture che non sono più del ministero della giustizia ma della sanità regionale che sono le residenze le cosiddette rems ma chi le segue le rems sono i dipartimenti di salute mentale bene è bene che si sappia che questa è la realtà per oggi è stato fatto fino ad oggi direi il possibile e si comincia a fare l'impossibile noi stiamo da circa tre anni stiamo lanciando un segnale di allarme siamo molto preoccupati perché noi non vogliamo che tutto questo venga meno semplicemente perché alle parole non seguono fatti grazie grazie davvero Bernardo torniamo per un momento ancora ti passo vediamo vediamo se mi sembrava Maria Pia che rispetto a quanto ci hai detto prima il cantiere della 180 però non si è fermato c'è una continuità in questi anni che forse è una continuità che dà speranza qui tra di noi ci sono operatori sanitari ci sono operatori psichiatrici ci sono operatori delle cooperative c'è un privato sociale sensibile vicino alle famiglie alle persone cosa possiamo dire sia rispetto alle strutture che rispetto appunto alla speranza che tutto questo non sia in realtà appunto parte del passato no no per carità siamo arrivati fin qui e dobbiamo andare avanti ci sono fatti obiettivi che danno speranza perché la legge 180 o vorrei dire addirittura la 833 ha fatto fare un passo avanti a una legge che si capisce che l'80 porta bene che si chiama 81 del 2014 che è la legge che ha chiuso effettivamente chiuso i cosiddetti OPG a cui ha fatto riferimento il presidente poco fa ospedale psichiatrici giudiziari e si sono individuati dei servizi territoriali che si chiamano REMS cioè residenze per misure di sicurezza REMS dove invece che i secondini abbiamo gli operatori sanitari abbiamo il problema della quantità perché la qualità di chi già c'è se l'è fatta sul campo quindi noi abbiamo degli operatori di alta qualità pochi c'è un turnover bloccato quando la gente va in pensione non abbiamo altre persone in questo momento quindi prima domanda per alimentare la speranza è che dobbiamo fare proprio una battaglia brutta le parole guerresche dobbiamo fare proposte pesanti per aumentare il personale che si dedica a questi servizi secondo gli OPG rischiavano di essere luoghi dell'ergastolo a vita si chiamava ergastolo bianco tu entravi lì e stavi lì a prescindere perfino dalla pena editale come si suol dire adesso chi dal magistrato viene inviato in una REMS deve starci tanto quanto sarebbe durata la sua pena se fosse stato in una carcere quindi vi sto dicendo cose dal mio punto di vista cioè sempre della politica con la P maiuscola spero che ci sono passi avanti che sono legati alla cultura del nostro paese e che forse la 833 ha reso più diffuso c'è una consapevolezza sui diritti della persona sulla inviolabilità della dignità delle persone che sta creando semi importanti anche in settori come questi quelli giudiziari dove si pensa più alla pena che al recupero sanitario pensate non solo al recupero e alla riabilitazione personale quindi io la vedo la speranza è nella partecipazione attiva dell'opinione pubblica a questi che sono rimasti campi ancora difficili è più facile chiedere un farmaco famoso che chiedere che si attui la 180 o la 81 ma i semi di cultura e di civismo che abbiamo messo in queste leggi devono diventare vita condivisa altrimenti gli operatori si sentono essi stessi isolati non solo i malati e i loro familiari quindi Giorgio la speranza è la partecipazione la condivisione e siccome siamo in un posto che amo e che mi ha fatto incontrare una persona speciale vi dirò concludendo che una persona speciale diceva così la soluzione dei problemi che la vita pone ogni giorno non avviene direttamente affrontando i problemi ma approfondendo la natura del soggetto che li affronta Don Giussani grazie Maria Pia rilancio la palla per un momento poi preparatevi perché chi vuole fare una domanda credo che qualche minuto uno spazio insomma di intervento e di interlocuzione ci possa essere Fabrizio proprio questo tema del soggetto mi sembra che ci può dire qualcosa proprio rispetto al fatto se questa grande innovazione della 180 ci propone degli insegnamenti per il futuro ma non solo della psichiatria ma forse anche del sistema sanitario della medicina non so cosa ne pensi sì io penso che ci dà molte lezioni quella che si chiama la soggettivazione cioè il valore che dobbiamo riconoscere nell'altra persona ci dà molte lezioni io ne scelgo due perché mi sembrano particolarmente importanti o io credo che siano importanti la prima è una lezione nei confronti di tutta la medicina la seconda lezione quella rivolta a un certo tipo purtroppo dilagante di assistenza fatta ai pazienti anziani allora devo partire da ricordare che un merito importante per tutta questa rivoluzione è stata la dobbiamo a Franco Basaglia che è stato uno psichiatra che nonostante ci fosse il regime della legge precedente ha sfidato e ha aperto le porte degli ospedali psichiatrici ma di lui si dimentica che tutto quello che lui ha detto e ha fatto non era un discorso solo sul manicomio e solo i difetti del manicomio ma era un discorso critico sulla psichiatria e sulla crisi di questa disciplina in che cosa consisteva la crisi di questa disciplina secondo Basaglia e anche molti autori all'estero si fondava questa crisi aveva le proprie radici nello smarrimento della soggettività del paziente cioè nel valore della persona del paziente cioè sulla oggettivazione del matto sono parole difficili queste ma il matto parola che uso con provocazione in modo provocatorio era una vera e propria cosa nelle mani della psichiatria e degli psichiatri qualche cosa di impersonale tant'è che vi faccio un esempio molti pochi psichiatri parlavano con i pazienti perché questo era considerato sostanzialmente inutile i matti erano incomprensibili i pazienti psichiatrici erano incomprensibili quindi inavvicinabili e inaiutabili non aiutabili per definizione lo sono stati fino a quando la psichiatria e gli psichiatri non sono riusciti a sviluppare strategie e capacità di parlare anche con coloro che hanno disturbi mentali allora perché parlo di un aspetto che ha a che fare la prima lezione che ha a che fare con quella che secondo me è una crisi della medicina oggi in medicina si parla di spersonalizzazione delle cure spersonalizzazione vuol dire che le cure non sono personalizzate e credo davvero che la medicina rischia di smarrire il senso del valore del rapporto reale con i propri pazienti con le persone dei pazienti le ragioni di questo rischio pericolo stanno in modo paradossale proprio nell'enorme sviluppo che ha avuto la medicina nell'enorme sviluppo che hanno avuto le conoscenze nel campo medico perché questo enorme sviluppo delle conoscenze mediche ha prodotto inevitabilmente la nascita delle specialità oggi i medici sono specialisti in gastroenterologia che in psichiatria eccetera eccetera dovuto al fatto che le conoscenze si sono davvero molto ampliate ma questo ha comportato lo metto tra virgolette una scomposizione della persona del paziente e spesso gli esperti delle diverse cliniche si occupano soltanto di parti del del corpo del paziente ammalato della parte che di loro competenza quindi la relazione del paziente con i curanti risulta frammentata perché spesso il paziente si trova fra specialisti più che nelle mani di un medico che lo cure e in realtà in molte situazioni è davvero difficile capire chi si occupa davvero di quel paziente un'altra ragione per ragioni diverse ma che agiscono sinergicamente in questo problema che riguarda la crisi che sta attraversando la medicina è che c'è stato un enorme sviluppo positivo della strumentistica diagnostica della informatizzazione del lavoro del carico sproporzionato nei confronti dei medici e tutto questo si è ridotto si è tradotto in una riduzione importante del tempo che il singolo medico dedica a quel paziente e in questo c'è una contraddizione adesso prendetelo un po' come uno slogan in cui credo molto ogni paziente cioè ogni persona ciascuno di noi quando è ammalato seriamente prima che essere curato ha bisogno di essere rassicurato cioè di trovare qualcuno che gli apporta un po' di serenità standogli vicino la parola clinica deriva dal greco e ci questa storia ci insegna qualche cosa perché la parola ha un doppio significato in greco la parola clinus vuol dire letto e il verbo clinin vuol dire piegarsi allora in questo c'è scritto qualche cosa di che cosa dovrebbe fare il clinico cioè il medico piegarsi verso chi sta male per secondo obiettivo ascoltarlo terzo motivo prima di tutto per rassicurarlo con la sua vicinanza ti starò vicino quarta cosa e quarto passo per curarlo sono quattro atti importanti che però hanno questa declinazione temporale la psichiatria manicomiale trascurava la clinica per il controllo e lo psichiatra non si piegava affatto verso il paziente e la medicina oggi corre lo stesso rischio la crisi di fiducia che noi tutti come pazienti abbiamo verso la medicina i professionisti della medicina si manifesta in modo piuttosto evidente con quello che io giudico il preoccupante fenomeno del sempre maggior numero di persone che si rivolgono ad altre medicine che sono del tutto inaffidabili sul piano scientifico ma che evidentemente riescono a soddisfare il desiderio la prima cosa che ha di cui ha bisogno una persona che soffre il desiderio di essere ascoltato e accettato una seconda lezione che ci viene data dallo spirito della legge riguarda il problema e soprattutto gli effetti delle grandi concentrazioni di pazienti negli stessi luoghi con problemi di cronicità sto parlando di un problema che riguarda l'assistenza agli anziani cioè di persone che hanno bisogno di assistenza perché hanno un bisogno o bisogni cronici cioè che continuano nel tempo la concentrazione le concentrazioni eccessive di pazienti che hanno problemi cronici comporta una automaticamente una riduzione delle attenzioni della cura rivolta alle singole persone la seconda cosa aumenta in modo impressionante quelli che noi chiamiamo fenomeni di istituzionalizzazione cioè la trascuratezza la passività l'abbandono la violenza fenomeni di contenzione eccetera eccetera e questo fenomeno ha una sua attualità grave perché riguarda soprattutto l'assistenza agli anziani che in molte regioni in molti posti hanno un tipo di assistenza che è un'assistenza concentrazionaria cioè che li assiste in grandi istituzioni con un'assistenza cronica e che li toglie dalla possibilità di vita quotidiana grazie ultimissima domanda la voglio rivolgere ancora a Bernardo Carpiniello il tempo a disposizione ce n'è rimasto poco però questo tema dell'altro questo tema del soggetto questo interesse profondo all'altra persona come parte della realtà ci interpella tantissimo come psichiatri ci interpella tantissimo come formatori ecco cos'è che riflessione di sollecita questo la riflessione è che la psichiatria di fatto direi un po' tristemente rimane l'unica forse l'ultima disciplina clinica nel vero senso della parola della medicina perché obbliga tutti gli operatori e lo psichiatri innanzitutto ma non solo alla relazione lo strumento di cura principale è la relazione terapeutica alcuni studi un po' complessi da spiegare dimostrano che nell'effetto di una terapia qualunque essa sia compreso i farmaci entra in gioco un 30-40% di effetto legato all'esistenza di una relazione terapeutica che si basa sull'empatia sul reciproco scambio sulla comprensione nel senso più ampio e più profondo del termine la psichiatria necessariamente si basa sul tempo e sul fattore umano noi non abbiamo bisogno di alta tecnologia per carità la psichiatria deve molto alle neuroscienze e noi mutuiamo molto alle neuroscienze moderne quando abbiamo bisogno di un attack la chiediamo ai colleghi neuroradiologi la risonanza magnetica chiediamo la collaborazione agli endocrinologi quando è necessario perché è e rimane una disciplina medica dove il fattore biologico nella genesi di un disturbo mentale è importante ma non è soltanto un fattore biologico perché la specificità della psichiatria sta anche nella natura multifattoriale dei disturbi mentali non esiste una malattia mentale che sia legata ad una singola specifica causa è sempre l'interazione di fattori biologici compresi quelli genetici con fattori che genericamente vengono definiti psicologico sociali se questo è vero la cura non potrà mai essere solo biologica per carità i farmaci sono ancora oggi il principale strumento di cura in psichiatria ma necessariamente tutto passa attraverso la relazione se io devo convincere una persona e Dio solo sa quanto tempo ci vuole a prendere un farmaco per i molti pregiudizi che ci sono io devo spendere molto della mia credibilità della mia relazione terapeutica per convincere una persona a prendere quel farmaco a fidarsi del fatto che gli farà bene e continuare a prenderlo perché la gran parte dei disturbi mentali prevede purtroppo terapie di lungo termine se non croniche e non è facile tutto questo così come non è facile curare un diabetico che deve prendere l'izulina a vita voi capite che se io sono affetto da un disturbo come il disturbo bipolare devo prendere che ne so il litio per tutta la vita nessuno lo prende volentieri ma chi lo prende e questo è dimostrato da tutti gli studi lo prende perché si fida di chi glielo ha dato ed ha una buona relazione terapeutica che è un rapporto non unilaterale ma bilaterale in qualche modo la psichiatria è fondata sul capitale umano ecco perché insisto abbiamo bisogno di uomini formati perché ci vuole competenza tecnica perché esiste anche una psichiatria abbattata da delle evidenze non è pensabile di curare oggi con una singola forma di psicoterapia ammesso che ne esista una soltanto in realtà ne esistono sin troppe tutte le persone oggi sappiamo che esistono delle tecniche specifiche che vanno imparate e che servono per un certo tipo di problemi allo stesso modo come non esiste il farmaco che va bene per tutti ma la medicina oggi siamo in un'epoca di personalizzazione delle cure e questo è stato sempre vero in psichiatria questa particolarità rende ancora oggi devo dire per nostra fortuna appetibile noi abbiamo tutte le specialità medica a parte che il ministero la considera una delle dieci fondamentali per fortuna abbiamo molte vocazioni a tutti i livelli e questo è soprattutto tra i nostri giovani ed è importante per mandare avanti un sistema che ha molto bisogno appunto di capitale umano formato e valido grazie vorrei chiedere se qualcuno in questi pochi minuti che ci sono rimasti cinque minuti ha una domanda bruciante da rivolgere ai nostri relatori prego due due domande due domande brucianti brevissimamente perché ovviamente bisognerebbe parlare di tutto l'universo mi sento di dire questo cioè la legge Basaglia è stata una grossissima conquista 40 anni fa a quel momento in quello stato dell'arte e oggi è cambiato molto lo scenario molto da tutti i punti di vista innanzitutto delle nuove situazioni cliniche le doppie diagnosi hanno invaso completamente i servizi ci troviamo di fronte al mixer di disagio prima disagio poi disturbo mentale io sono uno psichiatra quindi sono addetto ai lavori e assunzioni di sostanze di vario tipo nelle varie forme e quindi questo già cambia molto addirittura si sta svuotando la psichiatria tradizionale rispetto quella che non la vediamo quasi più quella l'altro aspetto è che ogni cosa dopo un certo numero di anni viene reesaminata in maniera critica c'è la mostra sul 68 50 anni dopo uno rivede certe cose con ovviamente le cose positive e quelle che poi hanno lasciato un segno invece non positivo 40 anni dopo credo che bisogna come nell'azienda se si rinnova si cambia i modelli bisogna fare un tagliando io volevo sapere l'atteggiamento soprattutto della società italiana di psichiatria che poi dal punto di vista anche culturale eccetera c'è un peso nello sviluppo in proposte che siano ovviamente non involutive ma proposte di adeguamento alla nuova fase sia dal punto di vista della malattia che dei nuovi farmaci quindi le nuove risorse e via di seguito ti possiamo chiedere dove lavori? servizio pubblico le marche ancora le marche grazie anche l'altra domanda è meglio che la facciamo subito così poi i relatori possono replicare buonasera non avete parlato del disturbo dello spettro autistico io sono una mamma di un ragazzo di 22 anni noi siamo della regione Piemonte e le famiglie vengono lasciate sole in questa situazione noi avremo bisogno di situazioni in cui i nostri ragazzi possano realizzarsi possano lavorare perché lo possono fare in realtà noi dobbiamo pensare autonomamente ai nostri ragazzi privatamente per chi se lo può permettere e molti ragazzi di questa età vengono lasciati con le nonne o in situazioni così limite diciamo è una situazione seria direi allora Bernardo vuoi rispondere tu allora la prima sono due domande una era un'affermazione lei ha fatto il collega ha fatto riferimento a un termine che forse è poco noto ha parlato di doppia diagnosi cosa vuol dire noi abbiamo circa il 30 e dipende dal tipo di patologia psichica anche 40% di persone soprattutto giovani che oltre avere un disturbo mentale hanno anche un disturbo da uso di sostanze cioè fanno uso di cannabis di cocaina di alcol alcol è la prima droga guardate in Italia è l'alcol la vera e più pericolosa droga sia ben chiaro quando si uniscono queste due realtà tutto diventa più complicato dico subito qualcuno dirà chi nasce prima l'uovo la gallina certe volte nasce prima l'uovo certe volte lascia la gallina cioè alcune persone avendo cominciato a fare uso di sostanze da ragazzi l'uso di sostanze slatentizza un disturbo mentale talvolta grave che probabilmente avrebbe potuto anche non manifestarsi l'esempio paradigmatico è la schizofrenia noi sappiamo che la cannabis di cui tanto si parla aumenta di quattro volte la cannabis alta potenza il rischio di sviluppare una psicosi schizofrenica questo la gente comune non lo sa però purtroppo bisogna saperlo la cocaina slatentizza drammaticamente il disturbo bipolare noi abbiamo ragazzi che oggi che hanno i primi episodi maniacali a quattordici tredici anni e l'effetto delle sostanze psicosipolanti è tremendo tenete presente che la prevalenza del disturbo bipolare è dal 3 il 5% della popolazione quindi non stiamo parlando di poca gente quindi questo per capire l'impatto può anche darsi il contrario che le persone giungano all'uso di sostanze per una forma di autocura piuttosto che andare per i canali tradizionali io mi curo la depressione con l'alcol o mi la curo con la cannabis però la realtà che diceva il colleghi è drammatica quando si uniscono queste due cose tutto diventa più complicato il decorso della patologia diventa veramente difficile da gestire questo rende per noi la vita più complicata e qui mi aggancio alla seconda domanda all'innovazione certo siamo consapevoli che curare come si curava un tempo a cominciare dal modelli operativi non è possibile per esempio la nostra idea è che l'impianto generale della legge va bene ma noi non possiamo andare ancora avanti con centri di salute mentale che sono la struttura base dove tutti si occupano di tutto quindi dobbiamo creare delle strutture operative molto specializzate perché per alcuni tipi di patologie ci vogliono veramente competenze specifiche penso ai disturbi di personalità per esempio che richiedono enormi competenze a partire dal piano relazionale noi abbiamo per esempio una grande carenza nel sistema italiano dell'uso di psicoterapie ne forniamo poche l'accusa è troppi farmaci non è che sono troppi farmaci i farmaci ci vogliono ma non bastano e che per alcune patologie hanno un ruolo marginale noi abbiamo una grande carenza di personale formato e i servizi vanno riformati nel senso di un miglioramento di quest'area così come di tutti gli interventi riabilitativi cosiddetti di reinserimento sociale e lavorativo che siano strutturati secondo regole scientifiche in Italia c'è stato in tempo Benedetto Saraceno che è stato direttore dell'OMS che tanti anni fa già diceva c'è troppo intrattenimento in Italia intrattenimento vuol dire tante belle cose che hanno anche un certo valore socializzante le gite i campeggi estivi ottimo ma non bastano per la riabilitazione per permettere a una persona giovane di recuperare e rientrare abbiamo veramente tante cose da fare le idee ci sono ma ovviamente una cosa ci tengerebbe a dire si deve partire innanzitutto però dal ripristinare il sistema economicamente e come forze umane perché effettivamente qualunque cosa risulta al momento attuale inattuabile se noi non diamo nuovamente tutte e due le gambe al sistema attualmente noi viaggiamo con una gamba e mezzo se va bene nel senso che abbiamo povertà di risorse umane povertà di risorse economiche ovviamente la psichiatria non è fatta solo di medici di infermieri per fortuna esiste il volontariato volevo ricordarlo che ci dà una mano enorme per fortuna esistono le famiglie per fortuna esistono ancora i servizi sociali che non sono quelli i nostri interni ma sono quelli dei comuni ma i comuni purtroppo ormai sono anche loro in tilt non riescono più a erogare quel tipo di servizi che per noi sono fondamentali per la psichiatria anche questa è una specificità è l'unica disciplina che ha un'interfaccia con tutti gli altri sistemi sociali perché ne ha bisogno noi non potremo mai curare nessuno da soli senza l'aiuto della rete sociale compresa la rete istituzionale grazie ah sull'autismo io non voglio entrare l'autismo voi sapete qui si apre un altro grande problema dell'Italia ne approfitto l'autismo è una patologia tipicamente ad esordio a cavallo tra la prima e la seconda infanzia ed è di competenza dei servizi di neuropsichiatria infantile che di fatto sono uno dei tanti servizi che è del tutto autonomo rispetto al mondo della psichiatria adulta ed è sottodimensionato io non entro e non voglio portare dati perché non sono il presidente della società però se ci fosse la professoressa Costantino le direbbe piangerebbe come noi sulla carenza di servizi per l'età evolutiva lei giustamente dice l'autismo c'è e sta aumentando drammaticamente e questo è vero perché i dati ci sono e c'è bisogno di servizi perché chi ha un figlio autistico sa cosa vuol dire avere e curarsi di un bambino autistico noi tutti siamo consapevoli questa è un'area un'altra area di emergenza le dico di più ce n'è un'altra perché i bambini autistici diventano adulti autistici e noi servizi di psichiatria ci troviamo a dovere improvvisamente in Italia da un giorno all'altro occuparci di una persona che non abbiamo mai conosciuto perché c'è un altro problema la continuità terapeutica tra l'età evolutiva e l'età adulta i due servizi parlano poco fra di loro e infatti in alcune regioni si sta cercando un modello il dipartimento di salute mentale che incorpora in qualche modo i servizi di neuropsychiatria infantile da un lato e i servizi per le dipendenze per cercare di collegare questi servizi che purtroppo in troppe aree italiane sono ancora tremendamente scollegati fra di loro non so se ho dato risposta alle sue domande però lei ha portato in evidenza un'altra area di problematicità ne potrei citare altre te o quattro però sicuramente quella di cui lei parla è una grossa area problematica ed è un'altra area nella quale si deve fare davvero tanto davvero tanto grazie davvero a tutti voi grazie dell'attenzione vostra un'ultima questione che butto lì e che queste ultime parole mi fanno dire è che mi sembra che accanto alla fondamentale emergenza educativa di cui spesso parliamo in questo contesto si sta profilando anche in questa attenzione all'altro in questa attenzione all'altro e alla realtà che ci provoca un'emergenza della cura della cura dell'altro lo vediamo proprio nei giovani negli adolescenti nella necessità che hanno di essere accompagnati dentro un percorso di profondo interesse alla difficoltà che stanno sperimentando questa è una realtà che coinvolge non solo i professionisti ma anche la comunità ed è proprio la relazione di cura ciò che rende possibile l'incontro con delle situazioni che non sono le nostre e che magari abbiamo l'occasione però per cogliere e questo ci propone un'alleanza fondamentale tra professionisti e tutti noi grazie ancora grazie a tutti